...ni anno e che attrae migliaia di appassionati. Pensate, gli iscritti, i motociclisti iscritti sono oltre 4.000. Erika Pinieri ha intervistato il vincitore della Parigi Dakar. Appassionati di moto d'Italia ed Europa, unitevi. Con questo slogan, più di 4.000 tra iscritti ed aggregati hanno sfidato le ore più calde per partecipare alla 28esma edizione del motoraduno internazionale di Belpasso, tra i più importanti del meridione d'Italia. Quattro giorni di grandi appuntamenti tra itinerari turistici, spettacoli pirotecnici, escursioni, rally e da quest'anno anche la presenza dei mezzi dell'arma e dei carabinieri, Belpasso ha vissuto con grande intensità una delle manifestazioni più spettacolari della provincia, inserita nel calendario dell'estate belpassese. Il moto raduno di Belpasso è uno degli eventi a carattere regionale. Riscuote sempre ogni anno maggiori successi grazie all'opera fattiva dal professore Luciano Bellini, che nell'organizzatore in maniera eccezionale. E da quest'anno anche la novità, i carabinieri espongono i loro mezzi? Sì, è stata l'occasione affinché i carabinieri potessero esporre i loro mezzi per dimostrare a tutti gli intervenuti che sono parecchi l'opera fattiva dell'arma dei carabinieri al servizio della società civile. Abbiamo cercato quest'anno di abbinare al moto raduno anche il completamento di alcune opere per far trovare e ospitare al meglio tutti i motoradunisti. In questo senso abbiamo completato la piazza di San Antonio, dove siamo in questo momento, rendendola più bella e rendendola quasi un salotto. E poi è stata completata anche la facciata della chiesa, il lavoro di ristrutturazione della chiesa di San Antonio. E ad un evento così importante non poteva mancare un testimone alla decezione, Fabrizio Meoni, due volte vincitore della Parigi-Dakkar. Ci sono partecipanti un po' da tante nazioni, di conseguenza è un moto raduno che ha veramente raggiunto un livello anche di notorietà veramente notevole. È una grande festa comunque dei motociclisti. Dopo l'esposizione, il concorso migliore moto conservata e migliore moto restaurata, il moto raduno dell'Etna Sicilia in moto si chiude con la cerimonia di premiazione. Si concluderà oggi a bel passo la quattro giorni del moto raduno internazionale dell'Etna giunto quest'anno alla ventottesima edizione. Ieri sera tappa catanese per i centauri che hanno attraversato le strade del centro. ...e via Etnea con la tradizionale sfilata al suono del rombo assordante prima di proseguire per bel passo. Stamattina l'arrivo a Montpilieri dove è avvenuta la benedizione dei caschi e l'escursione sui monti silvestri. È prevista per il tardo pomeriggio invece la cerimonia di premiazione. Oltre 4.000 tra iscritti e accodati, la stima dei partecipanti provenienti da tutte le parti d'Italia, ma anche dall'estero e in particolare da Svizzera, Germania e Belgio che hanno visitato nei giorni scorsi una parte della Sicilia passando per Noto, Avola, Siracusa, Bronte, Adrano e Catania. Soddisfazione da parte degli organizzatori anche per la presenza di un ospite d'eccezione, il campione italiano Fabrizio Meoni, conosciuto come il dominatore del deserto e vincitore di due edizioni della Parigi Dakar che ha raccolto il messaggio di solidarietà legato a questa edizione del moto raduno e che ha visto i partecipanti impegnati nell'invio di aiuti concreti e ai missionari operanti in Africa e in particolare a Togo e Dakar dove opera padre Arturo Buresti, presidente dell'associazione Solidarietà in Buone Mani a cui andrà parte del ricavato della manifestazione. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. A questo punto ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. Non dimensionale, ci fermiamo, c'è una breve parola pubblicitaria. C'è una breve parola pubblicitaria. C'è una breve parola pubblicitaria. Rock'n'Ru Aus derre music Und boomtasso Aus dieser ingle Ist mein großes idio Die braun' quandré blues Und rock'n'Ru Great boys Die braun' quandré blues Und rock'n'Ru Aus dieser ingle Ist mein großes idio Die derre music Und da ist das so Ich steh auf country blues Und rock'n'Ru Ich steh auf country blues Und rock'n'Ru Aus derre ingle Ist mein großes idio Aus dieser music Und da ist das so Ich steh auf country blues Und rock'n'Ru Und rock'n'Ru Und rock'n'Ru Grazie a tutti 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 Grazie a tutti